Quando innalziamo la luce delle nostre lampade, le nostre frequenze si aprono dei canali che permettono il passaggio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha creato tutto, lo Spirito Santo è anche Spirito di intelligenza e contiene il codice di tutta la creazione, può moltiplicare qualsiasi cosa. Però se noi ci comportiamo come degli egoisti, allontaniamo la luce e facciamo entrare l'oscurità, cosa succede? Gaetano Marino 2012 dove si cova l'odio e il disprezzo della vita non entra lo Spirito Santo. Carbonia 2010 Gesù mi sta dicendo le provviste che si faranno dovranno essere condivise con tutti i confratelli, con tutti coloro che verranno a bussare la porta, che avranno bisogno di una mano, di un aiuto, perché chi non darà una mano a colui che verrà a bussare la porta, i suoi viveri metteranno i vermi e non ne resteranno neanche per lui. Ricordate che io sono la provvidenza e che solo io moltiplico ogni cosa e che solo io creo tutto dal nulla. Non condividi, non sei in sintonia con la luce e il cibo diventa pasto per i vermi. Io creo tutto dal nulla. Non solo l'acqua può sorgere dal nulla ma anche il cibo. Madre Speranza oltre alle piscine aveva una mensa. Un giorno dovevano arrivare a pranzo 5 pullman da Milano, minimo 150 persone. C'era appeso al soffitto un cosciotto di vitello però era rimasto solo ed esclusivamente l'osso. Nelle pentole e nel frigorifero non c'era più carne. Le suore preoccupate si organizzano per mandare un signore a prendere la carne però non ci sono più soldi. Non vedono soluzioni al problema. Arrivano le 11 del mattino. Intanto madre Speranza si era messa in preghiera e cosa succede? Le suore tornano in cucina e rimangono sbalordite, sbigottite. L'osso del cosciotto di vitello era completamente contornato dalla carne e in più vedono quattro pentoloni pieni di bistecche già tagliate. Il cibo si può materializzare da nulla. Comunque per comprendere meglio cosa succederà nei rifusi voi guardate anche i filmati di madre Speranza. Ciglio tra le spine. Roma 2014. Coloro che credono in Dio e che pregano il Santo Rosario non avranno nulla da temere poiché io li proteggerò in maniera particolare e manderò gli angeli santi a custodirli. Atti degli Apostoli 12. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. E cosa succede? Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce angelo e luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro e lo destò. Viviamo il tempo del regno dell'Anticristo e saranno aperti dei campi di prigionia, di reclusione. In questi anni ci saranno degli Apostoli che avranno delle missioni speciali e non dovranno sempre rimanere nei rifugi, quindi avranno bisogno dell'aiuto degli angeli. La preghiera invoca la presenza degli angeli che sono portatori di luce, quindi potranno manifestare tutti gli eventi prodigiosi che si verificheranno nei rifugi. Moltiplicazione del cibo, guarire dalle malattie, materializzare il cibo dal nulla, proprio come è scritto in 1 Re 19. Elia era sdraiato a terra privo di forze, gli appare un angelo, e gli fa comparire dal nulla una focaccia riscaldata e una brocca d'acqua. Elia mangia e beve. Come vi ho appena letto in Atti degli Apostoli, l'angelo di luce ha aperto la porta della cella del carcere e ha fatto scappare Pietro. La materia organica e inorganica è composta da molecole, che sono delle sfere piccolissime. Faccio un esempio, abbiamo davanti una spiaggia composta da piccolissimi granelli di sabbia. Le molecole sono come dei piccoli granelli di sabbia che compongono la materia. Le molecole restano unite grazie a delle reti. Gli angeli riescono a disgregare la materia dissolvendo i legami delle molecole. Possono giocare a loro piacimento con la materia e possono aprire la porta di un carcere con estrema facilità. Carbonia, 2016. In Europa ora si dichiarerà lo stato di allerta generale. In tutti i luoghi ci saranno attacchi da parte dei nemici di Dio. La fede sarà messa a dura prova, ma in verità, in verità vi dico che chi mi chiamerà padre e chiederà il mio aiuto, io lo soccorrerò. I miei angeli metteranno in salvo tutti coloro che mi riconosceranno quale unico e vero Dio. Valeria Copponi, 2003. San Michele è l'angelo che vi proteggerà nell'ultima battaglia. Pregatelo con fervore, non sapete quanto sia importante la sua presenza. I boxer, un gruppo di rivoltosi cinesi, nel 1900 hanno attuato una rivolta spiettata e sanguinaria contro i cristiani cattolici cinesi, provocando migliaia e migliaia di martiri. Monsignor Fabieux si era barricato in una cittadella a Petang, pregava Gesù, pregava la Madonna, poi a fine di tutte le messe e all'interno delle scuole faceva dire la preghiera di San Michele Arcangelo. E l'arcangelo è intervenuto. In un episodio i rivoltosi sono entrati in una cattedrale e invece di sparare alle persone sparavano in aria. Finite le tensioni, finita la guerra, i guerriglieri sono stati interrogati e gli hanno detto ma come mai quella volta in cattedrale invece di sparare contro di noi sparavate in alto? E i guerriglieri hanno risposto ma come non avevate visto sopra di voi c'era una donna tutta vestita di bianco. Di fianco a lei c'era un guerriero completamente armato con due ali e una grossa spada che è San Michele Arcangelo e dietro di loro c'era un esercito di soldati tutti vestiti di bianco. Inoltre hanno detto che durante un attacco via terra erano arrivati in prossimità della cittadella di Petang e sono stati fermati da una forza invisibile. C'era un muro invisibile davanti a loro che li impediva di andare oltre. Allora colpiti dal terrore sono scappati, sono tornati indietro. Gli angeli possono intervenire con svariati modi, intervengono se li preghiamo e danno un potere illimitato.